Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, non sono sparito ma sono stato molto impegnato fra impegni personali e lavoro quindi non ho potuto stare appresso a youtube almeno non troppo, tuttavia sono contento dato che oggi portiamo possiamo dire il primo video ufficiale Tengu Plant dopo vario tempo oltre ovviamente alla guida con una profile di un mazzo diciamo molto amato in quel periodo che era anche considerato per alcuni il mazzo più forte in assoluto inarrestabile che appunto il Chaos Piper. Ma prima di continuare con la profile se vi piace questo tipo di contenuto inerenti al retroformat quindi Tengu Plant, Edison Hat quindi dei profile di questo tipo o anche unboxing relativi diciamo a prodotti abbastanza vintage iscrivetevi al canale è gratis lasciate anche un mi piace un commento dato che supporterà enormemente il mio lavoro. Parlando quindi del mazzo il Chaos Piper diciamo sfrutta tanti mostri di livello basso oltre ovviamente all'engine Chaos che nel periodo Tengu Plant diciamo grazie al Chaos Sorcer che non è più limitato bensì si può giocare in tripla copia ma soprattutto grazie al BLS diciamo che ha un bel boost. Inoltre diciamo grazie appunto al Chaos Piper che vedete qui davanti il mazzo andrà a pescare un bel po' di carte quindi avrà sempre materiale da riciclare. Quindi andando direttamente sulla lista io gioco a 41 carte come al solito almeno per questo tipo di mazzo. Gioco tre Chaos Piper che sono appunto la cover card possiamo definirla del mazzo. Andiamo a tributare questa carta quindi ne peschiamo una e se quella carta che andiamo a pescare è un mostro di livello 1 ne possiamo pescare un'altra. Quindi anche per questo il mazzo sfrutta tantissimi mostri di livello 1 che poi vi andrò diciamo a spiegare il motivo per cui gioco quei determinati mostri. Poi gioco vabbè le Tour. Eeeh la Tour il vecchio meme del canale. Una delle carte più emblematiche del formato Tengu Plant. Poi gioco triplo Veiler. Allora premetto che io i Veiler di solito non li gioco quasi mai a tre o almeno il terzo tendo a giocarlo di side per far spazio ad altro. È una carta veramente forte ma in questo tipo di mazzo dato che appunto abbiamo il nostro Chaos Piper. Il Veiler diciamo è un livello 1 soprattutto. Poi è anche un mostro luce. È un ottimo target sia per il Chaos Piper ma anche per diciamo l'engine Chaos. Poi gioco doppio Maxi che purtroppo non è di livello 1 altrimenti sarebbe veramente sbroccato in questo mazzo e giocare anche triplo Maxi in quel caso ma nel gioco soltanto 2. Volendo potreste portarlo anche a 1 o caso che vogliate diciamo giocare il mazzo in una versione un po più economica dato che il Chaos Piper è una carta che purtroppo nell'ultimo periodo dato che Tengu Plant sta cominciando a spopolare ha cominciato a salire di... è cominciato a salire di prezzo andando anche sui 20 euro a copia. Io per fortuna me li sono procurati a 5 euro ma sono dettagli. Quindi diciamo facciamo... togliamo diciamo un po' le carte classiche generiche del... un po' del formato a parte il Chaos Piper e continuiamo con doppio Kinkabio che è un mostro spirit che è un po' ci permette di fare il loop con il Chaos Piper praticamente va a rebornare il Chaos Piper utilizziamo l'effetto e così in loop. Poi essendo uno spirit nell'end phase tornerà nella nostra mano e quindi volendo abbiamo sempre modo di riciclare la cioè no di riciclare scusate di pescare in continuazione quindi avere sempre un buon numero di carte in mano. Poi livello 1 non gioco il reparto plant quindi se volete su richiesta posso portarvi la versione appunto Chaos Piper plant che appunto va a sfruttare anche qualche mostro pianta ma il bulbo diciamo è una delle carte che dovete giocare per forza e gioco quindi questi tre dato che vabbè Battle Fader si dovrebbe pronunciare così credo ci andrà a... è sempre diciamo ci protegge sempre da OTK o quant'altro. Cyber Naga è per me una carta veramente forte anche in Edison quindi sfruttatela finché potete perché vabbè di base ci parla sempre da possibili attacchi ci fa pescare soprattutto e questo mazzo diciamo ne ha bisogno quindi buttiamo un sacco di roba al cimitero anche grazie al bulbo che ha anche un tunnel ricordiamolo quindi per quello perché tendenzialmente si si gioca buttiamo la carta al cimitero e possiamo rievocarlo quindi possiamo sincronizzare dato che c'è da dire che in Tengu plant diciamo i sincro hanno un impatto secondo me un po più maggiore rispetto a... eh visto che c'è una varietà maggiore semplicemente per per quello. Poi gioca il Thunder... due Thunder King allora avrei voluto giocarlo a tre ma non ho trovato spazio già gioco a 41 carte e questa di base è obiettivamente il musso livello 4 potremmo dire più forte in assoluto nel formato dato che il meta diciamo il gameplay del formato Tengu plant tende un sacco diciamo ad aggiungere carte alla mano quindi è forte contro carte come che ne so rinforzi l'esercito soprattutto la la pot of duali la jarra della dualità e va preventiva diciamo l'utilizzo di quella carta che è sfruttata da gran parte dei mazzi del formato soprattutto se sono diciamo anti meta o hanno un reparto molto consistente di trappole che possono darci fastidio di cui appunto questo mazzo almeno nella mia versione non sfrutto poi gioco a doppia Tragodia che allora io in Edison non è una carta che gioco così tanto ovviamente molto molto forte ma sfrutta diciamo rispetto al formato precedente che non voglio sminuire assolutamente anche perché lo porto sul canale pensi già un quad risulta molto più forte sia perché vabbè la puoi giocare in doppia copia ma anche per il fatto che in questo formato esistono gli XSID quindi diciamo possiamo copiare il livello di un mostro abbiamo anche il bulbo vabbè fare sia arsincro che XSID tramite appunto l'altra Tragodia che è veramente forte poi ovviamente gioco il GORDS due estriconi del caos tre potrebbero anche essere buoni io mi sono trovato meglio con doppia copia ovviamente il BLS questo è il mio primo BLS avuto che come vedete è molto rovinato però appunto un po' per nostalgia lo faccio scendere in campo proprio in in memoria di quel periodo un dad e infine come mostro un caos allora per quanto riguarda il caos se siete giocatori di Edison probabilmente direte ma perché non giochi in più copie allora mentre nel formato Edison diciamo il caos risulta o i monarchi in generale risultano carte molto ma molto forti in Edison perdono un pochettino quella potenza a causa dell'Effect Veiler che è una carta che viene giocata bene o male da quasi tutti i mazzi e facilmente diciamo vanno a contrastare carte come questa ovviamente non sto dicendo che siano carte inutili tant'è che appunto do gioco e esistono versioni del monos ovviamente in quel periodo che ripeto fatemi sapere qui sotto nei commenti caso che siate curiosi di vedere quelle liste che ho la lista è veramente forte caos però non come nel formato Edison ma si riesce a sfruttare a dovere per le magie invece andiamo abbastanza spedite abbiamo un controllamento dato che brain control non c'è in questo formato essendo essendo bannata e diciamo è sempre forte dato che ci aiuta a fare exeed forte più bilanciata anche secondo me poi abbiamo kivistorp doppio tifone di quel tezzo come poi vedrete sarà nella side deck dato che in questo formato si può giocare in tre copie book of moon limitato mostro risuscitato e buco nero e reborn secondo me una di quelle poche carte sbagliate in questo formato ma giustamente non si può non giocare poi io personalmente gioco una creator swap e un enemy controller con cui mi sono trovato bene pensando ora all'enemy controller alcuni potranno dire ma perché non giochi la triborn frog non la gioco perché come potete vedere non gioco così tanti monarchi o soprattutto non gioco così tanti caius con tributo perché alcune versioni lo giocano che hanno magari 23 caius io invece non mi sono trovato granché con troppi caius ho preferito giocare questa versione qui mi sto trovando bene quindi ed è veramente fortino quindi per quel motivo almeno attualmente io non gioco la triborn frog per quanto sia una carta ovviamente forte poi gioco vabbè la sepoltura sciocca una giara della parizia che anche qui anche questa carta qui limitata un fascino dell'oscurità un one for one ovviamente dato che abbiamo tantissimi livello 1 soprattutto dobbiamo calare il nostro piper e poi infine come quarantunesima carta che potete scegliere se giocare o no gioco il buco trappola in sidioso rigorosamente in spagnolo come l'ho comprato tanto tempo fa nel caso appunto potete scegliere se toglierla oppure se giocare nel caso una trap dustshot come quarantunesima carta extra deck allora giochiamo una formula sincro troppo troppo forte metti a fuoco grazie poi un armory arm un katastor un librarian e mi dovete scusare per le bustine diverse ma non ho queste qui purtroppo con me le ho lasciate giù a sud e poi le distingo anche un po da edison quindi le cambio facilmente un oren dragon un bryonac un mago di arcanite una antica sacra viverna un drago rosa nero uno scrap dragon uno stardust dragon e uno shooting star dragon io ho una carta che personalmente adoro tantissimo è vero che potrebbe risultare un pochettino lignosa dell'exa deck un po troppo situazionale ma io lo adoro c'è un 3.300 d'attacco un effetto secondo me abbastanza forte ovviamente molto 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 forte e la formula ovviamente ripeto una delle carte che caliamo abbastanza facilmente ma è anche vero che questa è una carta che dovrebbe essere preferibilmente usata nella versione plant di questo mazzo che per l'appunto non sto giocando ma ripeto caso che siate interessati andatevi a recuperare il dio poi il gioco vabbè il sincro più forte ed emblematico del formato che è il trisciola e boh carta veramente assurda veramente figa poi il fatto che sia drago rende il debris dragon molto forte ed è per questo che è limitato e infine comic seed diciamo un po' i classiconi che sono il levier e il numero 17 che poi questo sono un po' legato a questa carta qui nello specifico dato che mi è stata regalata da uno dei primissimi iscritti al mio canale youtube quindi old memories mentre lui è stata la prima carta che ho comprato su ebay appena ho fatto la posta ebay quindi che nessuno si cagava diciamo troppo ebay e le carte di yuki infatti l'ho pagato tipo 3 euro spedito mamma mia le gioie da piccole e vabbè poi il segnamostro di gods l'extra deck fatto un po' come si suol dire alla cazzo di cane detto onestamente ma efficace fa quello che deve fare inoltre vi faccio vedere la versione che ho giocato e testato io quindi due cyber drago due d di crow che potenzialmente potreste portare a tre e addirittura io vi suggerirei di giocarli a di main perché sono dei livello 1 e praticamente bloccano praticamente molte carte dell'avversario un vanity sfind broken un tifone spaziale mistico io avevo pensato anche giocare alla fine di anubis che è veramente fortissimo due risucchiare la luce due cadute del sistema per cagare il cazzo a macchina quindi karakuri o macchina in generale 3 royal the creeper che questo formato ce lo permette quindi noi giochiamo queste una dart shot e un chimera tech dato che non sono riuscito a trovare spazio nell'extra deck ma per l'appunto come vi dicevo prima caso che doveste avere problemi fate il cambio di questi due e diciamo vi siete tolti il problema caso che appunto abbiate la preferenza di giocare questo nell'extra deck quindi ragazzoli grazie per aver guardato il video fino a questo punto spero che questo video vi sia piaciuto e ufficialmente posso dire che la serie tango plant finalmente ha inizio che la nomino ogni volta ma mai ho portato una profile quindi sono contentissimo di averlo fatto ho procurato anche qualcosina per halloween per sbustarla assieme ho speso altri soldi ma vabbè però appunto lo faccio per il canale dato che ci tengo appunto tantissimo a a voi e a quello che sto facendo e pian piano ci stiamo un po realizzando quindi incrociamo un pochettino anche le dita e niente se avete richieste in particolare per qualche altra decklist scrivetemelo qui sotto nei commenti rinnovo di nuovo l'invito a iscrivervi al canale qualora vi dovessero piacere questi contenuti e niente arrivederci e al prossimo video see you next time